La connessione dei più grandi istimisti Desidererei sottolineare con un grande applauso in questo momento Capitanando da due punti mandari quali sono i G Iniziamo la scuola correttosa E andiamo direttamente nelle mattune più storiche d'Italia Per portarci un attivino a vedere quali saranno i costumi Partiamo per sempre da quelli più classici Per poi finire naturalmente nelle spese e condizioni Firmate dal portamento europeo e mondiale Riporto iniziamo subito con un fantastico costume Prenda un day Per quello che cucinano l'estate 2009 Direttamente male Eccolo qui Eva Un grande applauso Signori Guardate il basmi che ha sulla schiena Favamo vedere Favate vedere il basmi Arriva lei Una mitica luxuria Direttamente con In carriera Eccolo qui Guardate che gambe Guardate che donne Ma soprattutto Guardate che gambe Ma soprattutto guardate che gambe Ma soprattutto guardate che gambe Guardate che gambe Quanto di meglio un uomo possa desiderare, pensate che una notte con lei è stata pagata più di un milione di euro. Madonna Schottin si chiama Michelle. Per la vuotichiarità di ogni giorno, signori Michelle, come notate Regiseno, super stretto per poterlo di tutto. Andiamo a toccare le cose più tarde, la donna Lino Cianina, eccola qui, grande applauso. Hanno chiesto se tutto quello che hai è roba tua. Fala vedere, fala vedere. La donna Ligianina, Cicciolina. Cicciolina, una sposa 2009, Ivana, è anche Ivana, una trans. Ligianina, un po' di dolce e campana. Fantastici, la collezione che vittima sicuramente nel corretto degli anni che vada ancora una volta, adesso è tuvi di pari, ora è spero, te paro, te pari Sorriderei in tutto con un grande applauso, vai Riccardo, abbiamo il costume da bagno Eva, la donna in carriera Mrs. Lusuvia e poi la sexy blonde Claudia, per poi passare alla donna shopping Michelle e ancora la donna lingerie Mrs. Cicciolina signori, la sposa 2009, Ivana Latrans, rigorosamente chiamato da dolce e madonna facciamoli giustamente un grande applauso, io direi che sono stati eccezionali quanto di meglio possa dare il panorama e come sempre la direzione del pelo del palo aumenta tranquillamente tutte le nostre modelle signori, il costume da bagno è la Giacinto per la donna in carriera Consulia Savelio per la donna sexy Claudia Salvatore per la donna shopping Michelle Lusio per la donna tutta gnocca, ovvero sia tutta shopping Ligeri Cicciolina Rosario e infine la sposa 2009, Ivana Latrans, Rosario signori, loro e poi loro quando li chiamo per uno non risponde nessuno ma basta dire dolce e cabana che arrivano per voi Donino e Paolo Parcho, Parcho 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 Grazie a tutti.